16 anni a Martina Levato, 9 anni e 4 mesi al presunto complice Andrea Magnani, questa la sentenza del processo con rito abbreviato per una serie di aggressioni con l'acido, delle quali è accusato anche Alexander Böttcher, che sta affrontando la fase del dibattimento. Soddisfazione espressa dal padre di una delle vittime, Stefano Savi. Erano già in carcere, arrestati in flagranza di reato lo scorso luglio, ma oggi i carabinieri di Vimercate hanno notificato a due fratelli residenti nel milanese un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare. Sono accusati di altri colpi in vari supermercati, sarebbero loro i componenti della banda della Panda, così soprannominata perché per le rapine utilizzava vecchie utilitarie. La regione Lombardia divisa in otto cantoni che dovrebbero sostituire le attuali 12 province. Questa l'ipotesi di Maroni per tradurre in normativa la riforma costituzionale decisa dal governo Renzi. Restano perplessità sul testo di Palazzo Chigi, si aspetta il referendum, ma intanto il governatore Lombardo detta la linea e promuove un comitato di saggi per arrivare a una proposta ufficiale entro giugno. Il PD apprezza l'apertura di Maroni. Confermato il blocco dei veicoli diesel Euro 3, la delibera verrà approvata nei prossimi giorni dalla giunta Maroni. Ci saranno però anche degli interventi che andranno a compensare l'obbligo di lasciare le macchine spente. Intanto la Confcommercio chiede incentivi per la sostituzione dei furgoni con mezzi meno inquinanti. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con il telegiornale di Telenova. Apriamo con la cronaca, l'avete visto? La notizia del giorno è quella della sentenza contro Martina Levato e il presunto complice della coppia dell'acido, Andrea Magnani. Sentiamo tutto nel servizio, nei dettagli, che ci racconta Massimo Scarizzi. 16 anni di reclusione, è questa la decisione del Tribunale di Milano che oggi ha condannato Martina Levato, la studentessa della Bocconi e responsabile di una serie di aggressioni con l'acido. Una sentenza che si aggiunge a quella dello scorso giugno quando l'Alevato venne ritenuta colpevole per aver sfigurato sempre con l'acido Pietro Barbini. La giovane è scoppiata in lacrime alla lettura della sentenza. Soddisfatti invece i genitori di Stefano Savi, una delle vittime. Per il padre Alberto c'è grande soddisfazione per il lavoro dei giudici che sono riusciti a dare un volto agli aggressori del figlio. Martina Levato dovrà anche risarcire i due giovani sfigurati, Savi e Barbini, con un milione di euro a testa. Il GUP ha riconosciuto l'accusa di associazione a delinquere richiesta dai PM. Una scelta duramente contestata dalla difesa dell'Alevato. Per Alessandra Guarini, legale della Bocconiana, all'Alevato è stata inflitta la stessa pena di Alberto Stasi e Anna Maria Franzoni, entrambi i responsabili di omicidio. Qua si è riconosciuta un'associazione a delinquere fatta con i fucili di Dragon Ball, ha aggiunto l'avvocato mettendo in dubbio l'ipotesi accusatoria accolta dal GUP. La ragazza è stata condannata anche per calunnia, per aver sostenuto di aver subito una violenza sessuale. Nessun attenuante tra quelle richieste è stata accolta dalla Corte. Si sono accaniti contro di me, ha dichiarato. Martina Levato lasciando l'aula. Per l'aggressione a Pietro Barbini, lo scorso giugno era già stato condannato a 14 anni di reclusione con rito ordinario, anche Alexander Böcher, l'amante della studentessa. Restiamo a Palazzo di Giustizia perché si riapre in appello il processo a carico di quattro poliziotti sulla morte di Michele Ferrulli, il manovale di 51 anni che il 30 giugno del 2011 morì a Milano per un arresto cardiaco mentre gli agenti lo stavano ammanettando. La Corte d'Assise d'Appello del capoluogo Lombardo infatti ha disposto una nuova perizia medico-legale per accertare le cause di alcune infiltrazioni emorragiche riscontrate sulla testa del manovale. Inoltre la Corte ha deciso che vengano visionati in aula nuovamente alla presenza dei consulenti delle parti i filmati che hanno ripreso le fasi dell'arresto e che stiamo anche vedendo noi. In primo grado nel luglio del 2014 gli agenti erano stati assolti dalle accuse di omicidio preterintenzionale e falso in atto pubblico a impugnare la sentenza sono stati il PM Gaetano Ruta che aveva chiesto condanne a sette anni di carcere e i familiari di Ferrulli, parti civili nel procedimento. L'approfondimento medico-legale dovrà rispondere alla domanda se ci sia stata una indebita compressione del capo sul suolo tale da indurre il cedimento dei vasi sanguigni dei capillari. Arrestati dai carabinieri di V-mercate in provincia di Milano due fratelli rappinatori seriali di negozi, in particolare supermercati, negozi rionali nella provincia di Milano. Almeno 13 i colpi messi a segno. Questa era la banda della Panda perché utilizzava proprio questo tipo di macchine facili da rubare per fuggire dopo il colpo. Sentiamo Alberto Carreras. Sono accusati di aver rapinato almeno 13 supermercati nelle province di Milano, Monza e Bergamo. Si tratta di due fratelli, uno di 37 anni residente a Bollate e l'altro di 32 residente a Rò. Sono stati fermati lo scorso 7 luglio per l'ultima rapina commessa i danni di un piccolo supermercato di Trezzo Dada e poi i carabinieri sono riusciti a ricostruire tutto l'iter criminale precedente. Le modalità erano sempre le stesse. I due preparavano i colpi rubando una vettura, preferibilmente Fiat Panda. Poi il più giovane fungeva da autista e da palo mentre l'altro entrava nei supermercati con un taglierino, minacciava la cassiera presente e si faceva consegnare l'incasso. Quasi sempre una cifra tra gli 800 e i 1000 euro. Ogni volta l'autore del colpo cambiava i vestiti e copriva il volto. Il 32enne era incensurato mentre il fratello, maggiore di 37 anni, aveva precedenti. Era stato arrestato nel 2011 dalla polizia, sempre per un episodio analogo. Il 37enne tutte le volte commetteva una rapina e ripeto la rapina viene commessa ogni volta con un'autovettura diversa che poi l'autovettura dopo la rapina veniva abbandonata sulla pubblica via e i vestiti, i capi di abbigliamento, venivano tutte le volte buttati via. Un gravissimo incidente oggi a Milano. Un motociclista di 31 anni è morto schiacciato da un camion in un incidente avvenuto intorno alle 13.30 in via Bezzi. Lo scontro è avvenuto all'incrocio con via dei Gracchi e ha ucciso sul colpo il centauro. Rimasto incastrato addirittura tra le ruote del mezzo pesante sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il camionista di 37 anni è stato trasportato sotto shock all'ospedale San Carlo. La politica adesso perché c'è stata un botta e risposta tra ieri e oggi tra i due dei candidati alle primarie del centro-sinistra cioè Francesca Balzani e Giuseppe Sala. Oggi ha parlato appunto l'ex capo di Expo se sono grigio lo decideranno i milanesi. Questo ha detto il commissario unico candidato alle primarie Giuseppe Sala rispondendo al commento della sfidante, la Balzani, che ieri aveva definito appunto la sua candidatura una candidatura grigia. Io penso che non solo Giuseppe Sala ma nessuno al mondo potrebbe pensare oggi di unificare sotto un unico pensiero tutte le anime della sinistra. Non sono certo io che mi occupo di politica da 15 giorni ad essere così presuntuoso da poterlo fare. Poi Sala ha parlato di un eventuale ticket Maiorino Balzani che secondo lui non ci sarà più perché se no l'avrebbero già fatto e ha detto se dovessi perdere le primarie lavorerei per far vincere la sinistra alle comunali. Ritengo che Beppe Sala possa essere la persona migliore a guida dei valori e delle idee che ci contraddistinguono. Quindi queste sono le parole di Roberto Caputo che non è riuscito a raccogliere le firme necessarie per partecipare alle primarie ma ha dato il suo appoggio ufficiale a Giuseppe Sala. Di primarie comunali ha parlato anche Dario Fo alla presentazione del suo ultimo libro del PD. Ha sottolineato la guerra intestina, così l'ha definita lui, evidenziando la confusione che accomuna centrodestra e centrosinistra entrambi senza un cavallo vincente sul quale puntare tutto. Poi però ha anche criticato il Movimento 5 Stelle e la scelta caduta su Patrizia Bedori. Ascoltiamo proprio questo passaggio della riflessione a tutto campo del premio Nobel. Sulle 5 Stelle sono fuori chiave. Mentre si sono mosse bene in altre città, Roma per esempio, e in Emilia, Romagna, nel sud eccetera eccetera. Qui non ho visto cose straordinarie e importanti. Infatti la ragazza che è stata scelta mi preoccupa molto. Mi preoccupa perché il problema è vedere poi se è in grado di gestire un fatto grande e se è data la fiducia, magari rimarremo tutti sconvolti dal che è già successo. Passiamo a parlare di Regione Lombardia perché il Presidente Roberto Maroni propone di dividere la Regione in otto cantoni in vista della riforma costituzionale decisa dal governo Renzi. Un comitato di saggi, che sarà nominato già la prossima settimana, lavorerà per presentare una proposta su queste aree omogene entro giugno. Otto cantoni al posto delle attuali 12 province in Lombardia. È l'idea che il Presidente della Regione, Roberto Maroni, ha indicato se entrerà in vigore la riforma costituzionale. Durante la conferenza stampa, dopo la riunione di giunta, Maroni ha annunciato di aver istituito un apposito comitato tecnico per l'attuazione della riforma ispirata dal governo Renzi. Dovendo a quel punto sostituire le province che verranno soppresse, l'ex leader della Lega dice di voler essere pronto con una proposta sull'organizzazione dei livelli di governo e le loro competenze. Questa sarà la semplificazione più importante mai avvenuta in Lombardia. Eliminare tutti i livelli intermedi con la riforma costituzionale, il processo si è messo in moto e vogliamo anticipare i tempi partendo subito. Se ci saranno le otto nuove aree omogenee, ha osservato Maroni, ciò comporterà anche la modifica della legge elettorale regionale che si basa infatti sull'attuale suddivisione delle province. L'obiettivo, ha spiegato Maroni, è di definire i criteri da proporre a Roma in vista della legge che il Parlamento dovrà adottare in attuazione della riforma costituzionale. Il Comitato Lombardo inizierà a riunirsi il 20 gennaio e sarà formato da professori universitari, rappresentanti degli enti locali, Camere di Commercio, Stakeholders. Il Comitato dovrebbe formalizzare una proposta entro fine giugno. Le nomine verranno fatte la prossima settimana. I nomi sono già stati definiti attraverso una graduatoria fatta da una commissione tecnica. Prosegue la polemica tra Palazzo Lombardia e Palazzo Marino sull'eventualità di ospitare i profughi in appartamenti privati dei cittadini. Nelle case aler di proprietà della regione non saranno ospitati rifugiati aspiranti profughi né clandestini. Gli assessori regionali della Lombardia alla Casa, Fabrizio Sala, e alla sicurezza Simona Bordonali lo hanno assicurato dopo che nei giorni scorsi il Comune di Milano è messo un bando per cercare famiglie che ospitino rifugiati e che per questo riceveranno 350 euro. L'assessore Sala ha annunciato che sarà inviata una nota formale ad Aler in cui si chiede di osservare il regolamento regionale richiamando due punti dello stesso. Il primo è che sulla presenza di estranei alla famiglia assegnataria della Casa Popolare è il proprietario dell'alloggio, in questo caso Aler, a valutare se ci sono le condizioni per concedere l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare. Inoltre i 350 euro al mese dal Comune farebbero ricalcolare l'indicatore di reddito della famiglia con possibili implicazioni sul fronte del canone dell'assegnatario. Ha risposto in serata Pierfrancesco Maiorino con queste parole siamo di fronte all'ennesimo episodio di paranoia propagandistica dei leghisti. Queste le parole di Maiorino a seguito di quanto abbiamo detto e ascoltato dagli assessori regionali sale e bordonali. La riscrizione della circolazione non è quello che volevo ma sarà studiato un sistema di compensazioni per chi sarà obbligato a non circolare. Lo ha detto sempre il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando la conferma delle limitazioni ai veicoli diesel Euro 3. Tra pochi giorni la giunta regionale approverà la relativa delibera e intanto la Confcommercio chiede che ci siano degli incentivi per cambiare i furgoni dei padroncini e delle ditte con dei mezzi più ecologici. Sul fronte della lotta allo smog, dopo molta riflessione, la Regione Lombardia ha assunto una decisione peraltro attesa da tempo. Dal prossimo ottobre verranno bloccati i veicoli diesel Euro 3. Il provvedimento scatterà dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017, tutti i giorni feriali, dalle ore 7.30 alle 19.30. La decisione è stata confermata dal cosiddetto tavolo aria e fa parte di una delibera che verrà approvata dalla giunta nei prossimi giorni. C'è voluto molto tempo per giungere a questa decisione perché i diesel Euro 3 sono ben 310.000, un numero notevolissimo e ovviamente non mancheranno disagi e proteste. Ricordiamo che in questo periodo dell'anno in Lombardia non possono circolare durante il giorno i veicoli a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. La Regione ieri ha comunque sottolineato la propria contrarietà in caso di situazioni di emergenza e inquinamento a ricorrere a targhe alterne oppure a blocchi del traffico. La Regione però insieme a Lanci si è impegnata a studiare altre misure strutturali che possano contribuire al miglioramento della qualità dell'aria in un'area tra le più inquinate d'Europa. Scatteranno anche misure per rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento e dovrebbero diventare maggiormente capillari controlli, ma per far questo occorre che il Governo metta mano al portafoglio distribuendo contributi finanziari. Tra l'altro gli enti locali dovranno decidere se accogliere le proposte governative che prevedono i 30 km orari di velocità nei centri urbani e minore temperatura tra le mura domestiche, provvedimenti sui quali i controlli sono sempre molto difficili da portare a termine. La Regione si è impegnata anche a fare la regia del coordinamento tra i comuni dell'area padana per evitare che, in caso di emergenza, ogni comune vada per la propria strada senza una direttiva unica. La Confcommercio ha fatto sapere che sono almeno 200.000 i veicoli Euro 3 diesel utilizzati per lavoro tra furgoni e camioni in Lombardia per incentivare la sostituzione occorrono urgenti e robusti incentivi economici per acquistare veicoli meno inquinanti. Parliamo adesso dei tagli previsti a Dalston Energia. La decisione di General Electric di tagliare posti di lavoro nelle divisioni europee di questa azienda che è stata rilevata lo scorso settembre e coinvolge 236 lavoratori in Italia nel biennio 2016-2017 su un totale di 600. Lo afferma Antonio Sansone, coordinatore nazionale della FIMCISL per il gruppo Alstom. I tagli si concentrano sull'impianto di Sesto San Giovanni mentre sono esclusi gli altri due stabilimenti in provincia di Padova e Alecco. In particolare, spiega il sindacalista, l'azienda intende cessare le attività produttive che coinvolgono circa 130 persone mentre gli altri dipendenti sono addetti ai servizi amministrativi, di manutenzione e alla progettazione. Per quanto riguarda Sesto San Giovanni, i licenziamenti, chiarisce il segretario generale della FIMCISL di Milano, Giuseppe Mansolillo, riguardano 211 persone nel 2016 e altre 25 l'anno successivo portando lo stabilimento alle porte di Milano da 400 a 164 dipendenti. Un piano che il sindacalista definisce inaccettabile per l'interesse dei lavoratori, del territorio, del paese e della stessa Confindustria. Torniamo a Milano perché al via i lavori per complessivi 12 milioni di euro che coinvolgeranno la Darsena e i Navigli. Tra pochi giorni inizierà lo svuotamento dei bacini. Preoccupazioni però soprattutto per la mancanza di pioggia. Si rischia una primavera con grosse difficoltà per chiatte e barconi. Tra pochi giorni la Darsena milanese resterà senza acqua. Verranno prosciugati anche i Navigli. Il Consorzio Villoresi ha iniziato l'opera di chiusura delle acque che dal Ticino arrivano al Naviglio Grande. Appena sarà raggiunta la secca si procederà ai lavori di manutenzione, ripulitura e consolidamento degli argini. La spesa complessiva si aggira sui 12 milioni di euro. Si spera poi che la pioggia possa ricreare i bacini a monte per ridare la giusta quantità di acqua la prossima estate. La siccità attuale infatti, secondo gli esperti, potrebbe compromettere la navigazione nella prossima stagione primaverile. Barche, chiatte e barconi potrebbero trovare notevoli difficoltà anche solo nello stazionamento. Il Lago Maggiore è sotto di 20 metri e il Ticino si trova ai minimi storici. Preoccupa l'ecosistema di tutta l'area. Oltretutto, grazie agli interventi operati dal Comune prima di Expo, tutta la zona è stata riqualificata in modo molto apprezzato dai milanesi che ogni weekend affollano le rive del porto milanese. Dal Parco del Ticino fanno sapere che serve un piano straordinario delle acque, come quello antinquinamento dell'aria. Il clima è cambiato e occorre immettere una maggiore quantità di acqua, ma la cosa non è semplice. Comunque, appena verrà raggiunta la secca, partiranno i cantieri che interesseranno 7 chilometri di sponde del Naviglio. A fine mese scatterà l'asciutta del canale Villoresi. Da più parti si chiede lo studio di un piano B da mettere in atto quando accadono eventi di questo tipo con siccità prolungata. Ci sono infatti molti pozzi che sono inutilizzati da anni e con lavori adeguati potrebbero essere rimessi in uso, contribuendo in questo modo a evitare possibili situazioni di estrema difficoltà. Da oggi in mostra presso la centralissima chiesa milanese di Sant'Antonio la rassegna a pannelli dal titolo Luce nelle tenebre dedicata alla persecuzione dei cristiani in Russia durante il regime sovietico. Un modo per riflettere insieme su un periodo oscuro e contemporaneamente promuovere il dialogo tra i cristiani di diverse confessioni. Il servizio è di Anna Maria Braccini. Raccontare la tragedia della persecuzione dei cristiani ortodossi nella Russia sovietica e farlo attraverso le immagini di una bella mostra ma anche significativamente promuovendo una serie di iniziative per approfondire le occasioni di dialogo ecumenico con il mondo ortodosso appunto. Si tratta di una mostra che nacque a Mosca e venne poi rivista e ripreparata per il pubblico italiano che ha come scopo quello di mostrare cosa è stato il martirio della chiesa ortodossa russa durante il comunismo nel XX secolo. Bella l'idea anche perché in Italia la cosa è largamente sconosciuta. È una mostra che pensata inizialmente per un pubblico russo è stata ripensata per un pubblico italiano che non conosce moltissimo della storia di quegli anni e parte però da un principio. Il titolo è La luce splende nelle tenebre perché non si vuole semplicemente raccontare il martirio ma piuttosto far vedere come la luce della fede è rimasta viva nonostante tutto quello che è accaduto. Particolarmente significativo anche che la diocesi di Milano abbia voluto la rassegna nel momento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Celebrazioni in questo momento importanti per gli ortodossi come quella dell'epifania ortodossa secondo il calendario giuliano? Infatti settimana prossima, martedì, è il giorno della teofania cioè del ricordo del battesimo di Cristo saremo a Lecco perché la mostra appunto è itinerante a Milano, a Lecco e a Varese e lì il gruppo degli studenti ma anche degli studenti italiani che con loro lavorano è stato invitato e andremo tutti insieme alla Divina Liturgia nella parrocchia russa ortodossa di Lecco che si concluderà in maniera molto suggestiva con la grande benedizione delle acque che a Lecco naturalmente si fa sul lago e ci sarà anche qualcuno che secondo il costume russo si tufferà nelle acque dopo che sono state benedette. A Milano la rassegna è visibile presso la chiesa di Sant'Antonio nella centralissima via omonima e rimarrà aperta fino al 17 gennaio dal 19 al 24 poi sarà a Lecco presso il collegio Volta 26-31 gennaio invece a Varese collegio De Filippi La linea adesso passa subito al calcio a Nova Stadio oggi in campo il Milan con il Carpi per la Coppa Italia ma tanto mercato soprattutto con Luciano Rindone e i suoi ospiti da parte mia davvero una buona serata sugli schermi di Telenova e i suoi ospiti da parte mia